Deve essere il primo, ma non il primo, deve essere il primo in assoluto sulla prima settoria. Hai capito? Mauro Marelli? E meno uno, vai 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 vai, meno due, meno tre, meno tre, meno quattro, vai l'unico che ce l'ho fatta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.